Ciao ragazzi! Oggi sto giocando con questo simulatore di porcellino d'India In realtà l'ho appena messo, non ho idea di che cosa consista Perciò lo proveremo insieme Innanzitutto possiamo impostare gli occhi del nostro porcellino d'India E invece il pelo bianco Eccoci qua! Questi siamo noi, che carini! Vediamo un po' cosa si può fare Entriamo nel tunnel Vediamo Oh! Stiamo andando Dove andiamo? Oh! Che bello! Ecco cosa si prova ad essere un criceto Mi sono bloccata qua dentro! Come faccio adesso? Come faccio uscire? Dai! Dai che ce la fai! Oh! Ce l'ho fatta! Benissimo! Ok! Andiamo qui con lo bianco, dai! Ok, saliamo ancora più in alto Uh! Ma lì giù vedo una casetta bellissima! Ci voglio andare! Allora ragazzi, qui siamo su Roblox Perciò tutti questi altri cricetoni che vedete in giro sono altri giocatori! Ma questo sto facendo la cacca! Ma che schifo! Ma non mi fai la cacca addosso però! Come faccio ad uscire da qui? No! No! Qui c'è un mister cacca! Anch'io l'ho fatta! Mangiamo un po'? Ok! Ok! Dobbiamo trovare l'uscita ragazzi! Fatemi uscire da questa cosa di cacca! Per favore! Come si fa? Oh! Ce l'ho fatta! Bene! Allora! Corriamo! 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 Ok! Forse in quello l'altro! Scusami! Permesso! Permesso! Ci passiamo in due! Dai! Passa! Andiamo di qua! Ok! Seguiamo il tunnel! Vediamo dove ci porterà questa volta! Speriamo all'uscita! Dai! 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 No! È chiuso! Ma dai ragazzi! È un labirinto questo! Allora! Qua è chiuso! Allora! Usciamo! Ritorniamo da dove eravamo partiti! Eravamo partiti da qua! Non ricordo più che quale era! Proviamo! Dai! Però risalto! Ok! Sì! 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 Ok! Qua c'eravamo passati! Mi ricordo! Tutte queste cacchine! Però! Però ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ok! Non entrerò più in questo tunnel! Dai! Mangiamo un po'! Mangiamo un po'! Che carino però! L'abbiamo mangiato! E questo! Ok! Oh! Qui c'è anche una piccola tana dove ci possiamo mettere a dormire! Invece di qua c'è un altro rifugio come quello! E ragazzi! Qui c'è un passaggio! Ah! Qui entriamo nella gabbietta vera e propria! Uno! Ok! Un po' di riposo! Che bello! Sono qui nella mia piccola tana! Ok! Sono pronta per esplorare ancora! Facciamo un giochino! Ok! Vediamo dove possiamo andare! Oh! Guardate! Qui c'è l'entrata per la casetta! La casetta tipo dollhouse! Vediamo ancora un po'! E poi saliamo su e vediamo che cosa c'è! Potrei fare una specie di percorso credo! Vediamo! Oh! Sono dei trampolini! Eccolo! Vai! Ce l'ho fatta! E poi ci porterà! Saliamo! Ok! Siamo arrivati qui sulla torre! E c'è un ponte! Attraversiamolo! Proviamo a fare un salto? Dai! Vediamo che succede! Prendiamo la rincorsa! Vai! Salta! Sì! Non si è fatto nulla! È rimbalzato! È un criceto di gomma! Benissimo! E qui ci sono dei forzieri misteriosi! Che cosa? Cosa succede? Cane? Si può comprare qualcosa con i Robux! Questa è la bambina che guarda dentro il cinto! Però dovrebbe anche pulirla un po' questa gabbietta! Perché è un po' piena di pacchette adesso! Aiuto! Fatemi rientrare! Fatemi rientrare! Sono uscito per sbaglio! Paglino! Possiamo giocare? Ah sì! No vabbè ma lo devo far vedere anche ad Alissa questo gioco! Secondo me le piace! Che bello! Sto facendo questo gioco del simulatore di porcellino d'India! Non è proprio un criceto! Solo che sono uscita dalla gabbia e ora non so più come si rientra! Come faccio? Devi... Mi consigli bene dove andare! Guarda! Bello! Oh! Siamo arrivati qua! Adesso! Ma che stanno facendo quei due? Ma sono riusciti nello stesso posto! Ma che voglia c'è dire sopra di qua? Ha cambiato colore all'improvviso! Vediamo quello viola dove ci porta! Stanno tutti qua! Ma che sta succedendo ragazzi? C'è un criceto party! Vabbè però c'è troppa gente per i miei costi! Io riprovo il labirinto! Allora vado qua! Corro, corro, corro nel tunnel! Allora! Dove vado? Che colore scegliamo? Non mi ricordo qual l'avevo fatto prima che mi ero persa! Ok andiamo nel blu! Eccolo qui! Ok! Il dito! Cos'è? Un buco? E si doveva caderci! Mi butto? Ah! Ok! Cosa è successo? Ma non lo so! È una ruota! Forse! Oh! Vabbè! Ah! È tipo che mi cade sempre in un bel ruolo! Ah! Ok! Mi sa che l'abbiamo esplorato tutto! Comunque è molto carino! Guarda che carina anche la gabbietta! Bella! Qua ci dobbiamo venire a giocare insieme! Ci facciamo due cricetini! No 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 no! Sei dipper! Sì! Ma prendiamo gli spunti per creare delle cose veramente vere per dipper! Va bene! Ragazzi! Sì! Questo era il simulatore di Guinea Pig su Roblox! È molto carino! Devo dire! Cercatelo perché è divertente! Cioè non bisogna fare niente di che! Bisogna solo andare in giro e ci si inventa le storie! Poi questo spara le cacche in continuazione! Proprio come dipper! Quindi è molto realistico! Va bene! Per oggi questo piccolo video finisce qui! Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti